Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Verissimo, condotto da Silvia Tofanin, è un contenitore di emozioni, di racconti forti, commoventi, che interessano i VIP, quelli che riteniamo lontani dal dolore. Tati rivelano vissuti anche molto forti, dimenticandosi, per dei minuti, dei milioni di telespettatori in ascolto, proprio come accaduto nella puntata di Verissimo Andata in Onda il 26 novembre 2022. Un volto noto ha fatto delle dichiarazioni davvero toccanti e la Tofanin non è riuscita a trattenere le lacrime. Vediamo cosa è accaduto. A far brillare gli occhi della Tofanin, il racconto della splendida giovane attrice Ludovica Nasti, originaria di Pozzuoli che, nonostante i suoi sedici anni, ha già alle spalle una carriera brillante, quella nel ruolo di Lila dell'Amica Geniale, serie tv che l'ha consacrata, poi Mina Settembre e Il ritorno di Romulus. La giovanissima attrice ha parlato della leucemia, la malattia che l'ha colpita quando aveva solo 5 anni, e ha scelto di farlo davanti alle telecamere. Ricordo il primo mese in ospedale. Mia mamma è stata la mia colonna e quella della mia famiglia. Grazie a loro non ho mai avuto paura. Mia mamma mi ha fatto sempre vivere come nella vita e bella di Benigni. Sui capelli avevamo un motto, che sarebbero ricresciuti più forti e più belli. Pensavamo alle trasfusioni di sangue come alla Coca-Cola. La Toffanin, a quel punto, non è riuscita a trattenere le lacrime. Ma il racconto della Nasty è proseguito così. Devo solo attendere i 18 anni per sapere di averla sconfitta del tutto. Allora non dovrò più sottoposti ai controlli. Anche se la lotta prosegue, l'attrice è una guerriera, una combattiva, una di quelle ragazze con la testa sulle spalle che guarda con ottimismo al futuro.